Potrebbe comparire in aula anche il noto attore Carlo Verdone nel processo per la morte di Martina Rossi, la giovane studentessa d'Imperia precipitata dal sesto piano di un grande hotel alle Bareari il 13 agosto 2011. Tiberio Baroni, avvocato difensore di Alessandro Albertoni, uno dei due imputati accusato di morte come conseguenza di un altro reato, ossia la tentata a violenza sessuale, ha infatti citato Verdone come testimone in aula. La citazione dell'attore indubbiamente incontrerà l'opposizione della pubblica accusa della parte civile e toccherà poi al collegio giudicante stabilire se chiamare in aula Verdone. Tra gli altri testi citati da Baroni, il GIP accusati di Genova, l'ex prefetto Montanaro ed infine anche il parroco di Castiglion Fibocchi, Donadel Moraldi. La lista dei propri testimoni nei giorni scorsi è stata depositata anche dal legale di Luca Vanneschi, l'altro imputato e dalla parte civile. Tra i testi citati invece dal procuratore Roberto Rossi, le amiche della giovane e i compagni di vacanza dei due imputati, pure loro sotto processo a Genova per false dichiarazioni al PM. Nella lista infine compare anche il poliziotto spagnolo che per primo intervenne sul posto. Non è invece presente la cameriera Franzisca, l'ultima testimone oculare ritenuta dal procuratore non attendibile. Il processo prenderà avvio il prossimo 13 febbraio di fronte al secondo collegio del Tribunale di Arezzo. Si baserà su un esame capillare di atti, perizi e rogatori e documenti per un totale di circa 5.000 foghi. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, Martina sarebbe precipitata dal balcone, cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro da parte dei due giovani di Castiglion-Fibocchi.